Eccoci tornati in diretta da San Marino, sono in compagnia di Saman Zerati, più conosciuto ai più come 8DX. Ciao Saman. Ciao Alice e ciao a tutti quelli che ci seguono. Come sta andando il torneo? Tu sei un veterano di SPT, nel senso che l'avevi già fatto, com'è la struttura e come te la stai cavando? L'avevo già fatto, ho partecipato all'etapa warm up infatti, la struttura è abbastanza carina, ci sono 50.000 di stack iniziale che sono buone anche se portano molti giocatori a pregustarsi molti flop, quindi bisogna stare molto attenti. E qui mi anticipi la prossima domanda, che era come comportarsi con giocatori del genere, quindi comunque con non professionisti, amatori, che quindi tenderanno un po' di più magari a essere calling station. Come si comporta il pro in queste situazioni? Beh, prima di tutto non c'è una tipologia di calling station univoca. Ci sono giocatori passivi, ci sono vari tipi di calling station, quelli che magari ti flattano l'up 3 bet preflop, ma give upano il flop, quindi si arrendono subito al flop. Ci sono quelli che invece te ne chiamano 3 di strade con bottom pair, quindi devi riuscire a capire anche che tipo di calling station hai al tavolo. Chiaramente con quelli che vedi che non foldano mai, devi giocare solamente per valore. Se invece trovi quello che magari è disposto a gustarsi sto flop, ma poi arrendersi post flop, magari puoi anche decidere di prenderti magari una strada e insomma folderà probabilmente abbastanza velocemente. E magari anche di giocare qualche mano in più con loro, visto che comunque se ti amo magari saranno portati a pagarci. Sì, quello sicuramente. Infatti nei primi livelli ho cercato di giocarmi più flop possibili, anche con carte piuttosto brutte. Non per altro, ma se riesco a hittare un flop, che insomma è dalla mia parte, gliene posso portare via tante. Inoltre, se anche non dovessi hittare molti flop, giocano abbastanza straightforward, si vede solitamente cosa hanno. Quindi su certi flop, se anche non avessimo hittato, possiamo cercare di portarci a casa il piatto senza problemi. Quanta tecnicità! Piccole cose, piccole perle, le pillole famose, no? Come le chip che mi sono rimaste, quattro pillole più o meno. Però a parlare siamo bravissimi, no? Non è vero, Saman non è bravo solo a parlare, ma soprattutto a giocare, perché i risultati lo confermano. Io ti lascio andare a giocare perché è ricominciato il torneo dopo la pausa. Un grossissimo in bocca al lupo e spero soprattutto di vederti a Londra. Speriamo, speriamo, dai. Ti ringrazio ancora Alice e ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.